Sopraluogo di Carabinieri e Asla questa mattina in località Timpone a Santa Marina, come annunciato, è stato effettuato il prelievo necessario a stabilire la potabilità dell'acqua emmessa dal Comune nel serbatoio della CONSA che è nella rete idrica comunale. La Procura della Repubblica di Lago Negro infatti ha disposto un'accurata indagine sui fatti che si sono consumati nei ultimi due mesi sul territorio comunale per far fronte alle continue e lunghe sospensioni del servizio idrico. Il caso è stato affidato alla Compagnia dei Carabinieri di Sapri, alla quale sono state date precise indicazioni sui controlli da eseguire per tentare di arrivare alla verità dei fatti. Si tratterà di effettuare acquisizioni documentali al Comune e alla CONSAC, di effettuare sopralluoghi, oltre che, come già avviato, di compiere delle analisi con l'obiettivo non solo di chiarire se c'è il rischio per la salute dei cittadini per quanto riguarda l'acqua distribuita, ma anche se ci siano state eventuali omissioni o abusi e se dunque in definitiva siano state rispettate leggi e procedure. L'indagine era stata sollecitata lo scorso 28 agosto dal Presidente di CONSAC, Gennaro Maione, dopo aver scoperto che il Comune aveva manomesso un serbatoio e dato acqua a parte della popolazione. Venerdì 1 settembre il Comune aveva poi depositato in procura la sua controdenuncia in cui illustrava tutte le vicende avvenute da maggio sul territorio comunale, fino ad arrivare a giustificare le ragioni dell'ordinanza sindacale con cui aveva adottato provvedimenti di sommorgenza per la gestione dell'emergenza idrica. In virtù di tale ordinanza, spiega Fortunato nella denuncia, ho disposto le necessarie opere per la trivellazione di pozzi artesiani, per il reperimento di faldi acquifere e la conseguente emissione in rete, con successo, delle risorse idropotabili rinvenute. Ad oggi, dice ancora Fortunato, nelle case del capoluogo è tornata l'acqua, ma non grazie alla CONSAC, per questo chiediamo che si chiarisca l'aspetto giuridico. In realtà, ad oggi, l'erogazione di acqua nelle case di Santa Marina è ancora altalenante, ma intanto i accertamenti giudiziari in questa guerra dell'acqua che verrà combattuta nelle aule di tribunale sono iniziati. Ci vorrà qualche giorno per conoscere i risultati dei prelievi, intanto si aspetta martedì per attendere la prova dei nuovi impianti realizzati da CONSAC. La società stamane ha presentato, come annunciato, anche il ricorso al TAR, in merito alla tanta contestata ordinanza sindacale che ha dato il via alla guerra dell'acqua.